Elena Puliti dove racconto anche storie con certi personaggi politici, sportivi, calciatori eccetera eccetera l'unica cosa che non ho messo i nomi perché volevo difendere la privacy degli altri la mia è relativa perché con il lavoro che faccio purtroppo di privacy non ne ho più E come sono gli uomini oggi dell'era 2.0? È una domandaccia questa, vabbè, narcisi, un po' narcisi, un po' sfuggenti e hanno paura delle relazioni cioè è molto difficile e poi credo che proprio quando si diceva gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere adesso proprio sono ancora più due pianeti distanti, non si comunica più Come mai questa presentazione a Montecano è principale? Perché io ho degli amici qua che un giorno mi hanno fatto questa sorpresa mi hanno detto guarda al 14 tieniti libera perché vogliamo fare una presentazione del tuo libro Io frequento Montecano da tanti anni perché prima mi occupavo di motori quindi ero sempre qua poi per piacere personale l'ho sempre frequentata e quando è nata questa cosa ho accettato volentierissimo proprio perché mi piace il posto, nonostante sia piccolo è molto internazionale, questo mi diverte tantissimo Elena Puliti naturalmente ha i tacchi e spillo Certo